Secondo Confindustria, il costo energetico per le imprese italiane nel 2022 sarà di 110 miliardi di euro in più a causa dei rincari di elettricità e gas, legati alla guerra russo-ucraina. Come si evolverà la situazione, però, dipende molto dalle scelte che saranno prese in Europa riguardo il prezzo del gas, dagli effetti della legge di bilancio, dai decreti aiuto e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR. Imprese in difficoltà nel 2022 secondo un sondaggio della Banca d'Italia effettuato tra agosto e settembre 2022, quasi un terzo delle aziende ha riscontrato maggiori difficoltà legate al costo dall'energia rispetto ai tre mesi precedenti. Una fotografia confermata anche da uno studio dell'osservatorio CRIF Pulse. Se il 2021 è coinciso con la ripresa post-pandemia, il 2022, spiega lo studio, si caratterizza invece per la riduzione dei margini. Operativi delle imprese, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Per più del 40% delle aziende del Paese, inoltre, il livello di rischio creditizio diventa medio-alto. E per le aziende con elevati livelli di indebitamento, questo condiziona il rischio del tasso di fallimento nel biennio dal 2023 al 2024. Le misure per le imprese nella legge di bilancio come evitarlo? All'interno del pacchetto contro il caro energia della manovra 2023, vengono prorogate una serie di misure già esistenti. Resta, ad esempio, il credito d'imposta sulle bollette di energia e gas, che sale al 45% per le imprese energivore e al 35% per le altre. La proroga, però, è prevista solo per il primo trimestre del nuovo anno. La legge di bilancio 2023 finanzia nuovamente il fondo di garanzia PMI e proroga il credito d'imposta sulle spese di consulenza sostenute. Per la quotazione in borsa delle piccole e medie imprese. Ci sono poi anche una serie di misure che riguardano le agevolazioni per le assunzioni, con esoneri contributivi pari al 100% fino a un tetto di 6.000 euro per ciascun lavoratore. Mentre il taglio del cuneo fiscale, pari a 2 punti per i dipendenti con stipendio fino a 35.000 euro e 3 punti per chi guadagna fino a 20.000, va invece a totale vantaggio del lavoratore. Ma il governo ha già annunciato una riforma con un taglio del cuneo del 5%, per due terzi a vantaggio dei lavoratori e un terzo a vantaggio delle imprese. L'introduzione di finanziamenti a fondo perduto, però, è legata alla partita europea, poiché i margini di spesa all'interno del bilancio nazionale sono risicati. I soldi per gli aiuti contro il caro energia stanziati dalla manovra finiranno a marzo e bisognerà negoziare con l'Europa un nuovo deficit o strumenti di condivisione del debito sul modello del Next Generation EU. Novità dal PNRR per giovani e donne Grazie ai fondi del PNRR e alla legge di bilancio 2022, sono già previsti diversi esoneri e agevolazioni per le imprese, in particolare quelle guidate da donne e giovani, che tra le categorie che più subiscono i contraccolpi delle crisi. Già con la legge di bilancio 2021 era stato istituito il Fondo Impresa Femminile per promuovere l'avvio e il rafforzamento delle imprese. A conduzione femminile, ma anche programmi e iniziative per la diffusione della cultura dell'imprenditorialità tra le donne. La dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui è stata successivamente integrata, con l'aggiunta di 160 milioni di euro provenienti dalla missione 5 Inclusione e coesione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il fondo può concedere contributi a fondo perduto per l'avvio di imprese femminili, ma anche finanziamenti a tasso zero o agevolati. Per avviare e sostenere le attività di imprese femminili. Il PNRR prevede anche il sostegno per l'accesso al credito agevolato di imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile. Inoltre, la misura oltre nuove imprese a tasso zero on, con 150 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2022, sostiene. La creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. L'agevolazione può essere richiesta da imprese che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti in diversi settori, manifatturiero, dei servizi, del commercio e del turismo. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A. 6B, Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.picta nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietà tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a pie di pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.